Il significato di una convenzione importante, IMSS, Caritas Ambrosiana, il terzo settore, istituzioni pubbliche, la Chiesa Ambrosiana per venire incontro ai diritti dei più deboli che qualche volta non riescono ad accedere a questi stessi diritti. È un esempio bellissimo e concreto di quella bella parola che l'Arcivesco ha pronunciato a Sant'Ambrogio, tocca a noi tutti insieme, è un modo per fare, di fronte a chi ha dei diritti e non li conosce o chi non riesce ad aggiungere le realtà che possono renderlo degno di essere cittadino, ecco questo accordo tra la Caritas che intercetta molte persone, l'IMS che studia, conosce e procura le vie necessarie per accedere ai diritti e tutta la realtà che è collegata adesso esprime appunto un modo di dire che la carità diventa anche giustizia, dare per giustizia e non dare per carità come si usa dire è importante perché la carità ha anche questo volto. Allora tra istituzioni si collabora insieme, credo che sia uno anche dei frutti più preziosi della pandemia nel senso che ha sviluppato oltre a tante fatiche anche tanta genialità, questo è uno degli esempi.